ciao ragazzi in questo tutorial vedremo come creare un supporto avviabile dvd o chiavetta usb con ubuntu 20 primo step è quello di scaricare la iso di ubuntu quindi sul bar di ricerca scrivo ubuntu italia la prima opzione mi da appunto ubuntu 20 lts scaricalo subito desktop avvia il download come vedete qui è partito il download della iso perfetto una volta scaricata la iso possiamo partire innanzitutto con la creazione del dvd avviabile io qui ho un dvd 4.7 giga lo vado a inserire e poi vado a recuperare nella cartella di download la iso che ho scaricato e in questo caso noi usiamo per masterizzare il cd e immagine burn però va bene qualsiasi tipologia di masterizzatore che avete installato nel vostro pc io vado a installare la iso dvd attendo il completamento perfetto ecco che la procedura è stata completata ed ecco che ho creato il mio dvd con ubuntu 20